Il sindaco di Novara chiede che i No Green Pass sospendano le manifestazioni dopo quanto accaduto sabato, domenica presidio pacifico a Domodosso. La posta italiana deve duplicare il buono fruttifero rubato a una signora accusiana, così la sentenza del giudice di pace. A Verbagni ha riaperto per pedoni e biciclette il vecchio ponte del Plush che collega Pallanza a Intra. Valorizzare i cimeli della nuova Faro, un pezzo di storia di Omenia, questo l'obiettivo del sopraluogo di oggi del sindaco Marchioni. A Rona due nuove ambulanze sono state donate da altre tante famiglie ai volontari della Croce Rossa. A Mergozzo evento dedicato a un vino nuovo, il Moscato Secco e alla cucina d'eccellenza, matrimonio perfettamente riuscito. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizia in apertura di giornale. Torniamo a occuparci di quanto accaduto sabato a Novara con i No Green Pass che hanno sfilato travestiti da deportati dei lageri. Il sindaco Canelli chiede lo stop ad altre manifestazioni alla luce del clima che si è creato. Intanto domenica i No Vax e i No Green Pass sono scesi in piazza pacificamente a Domodosso. Ad ora non abbiamo ricevuto nessun preavviso per sabato, probabilmente arriverà. Vedremo nei prossimi giorni. Lo afferma a Lanza il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro, in merito all'ipotizzata richiesta del sindaco Alessandro Canelli di vietare nuove manifestazioni dopo quella dei No Green Pass travestiti da deportati dei lageri di sabato scorso. Una dettagliata informativa su quanto accaduto è stata inviata questa mattina in procura dalla Questura che già sabato aveva inviato una prima relazione al Ministero degli Interni. Il sindaco Canelli ha precisato Non spetta al Comune autorizzare le manifestazioni. Il mio è soltanto un appello. Alla luce del clima che si è creato con l'ultimo corteo e delle sacrosante reazioni di sdegno che ha sollevato penso sia giusto valutare l'opportunità di autorizzare, almeno nell'immediato, altre manifestazioni. Ma è ovvio che tutto questo dovrà essere valutato dalla Questura. Canelli ha concluso Credo sarebbe anche utile un incontro con le istituzioni, in primis con la comunità ebraica alla quale dovrebbero chiedere scusa. Potrebbe servire a rasserenare gli animi e, forse, a far capire loro dove hanno sbagliato. Ancora oggi, da più parti, la condanna per quanto accaduto nella città gaudenziana. Spostandoci nel capoluogo solano, sono stati un centinaio i manifestanti che domenica pomeriggio, dalle 14 alle 17, in Piazza Mercato a Domodossola hanno preso parte all'evento promosso per spiegare le ragioni del no al vaccino contro il Covid e al passaporto verde. Testimonianze si sono alternate a momenti di musica. Voleva essere un momento d'incontro e confronto e così è stato. Soddisfatti gli organizzatori, polizie e carabinieri hanno osservato a distanza la piazza. Sono arrivati da tutto il VCO per prendere parte dalla manifestazione promossa dal Comitato Cittadini Unito per la Giustizia e la Libertà. Sul territorio provinciale l'incontro domese segue di poche settimane quello promosso a Verbania. Una manifestazione pacifica dove studenti, lavoratori, mamme, ragazzi e non più giovani si sono alternati al microfono per spiegare le ragioni dei loro no. Hanno parlato di diritti calpestati e hanno giurato lotta ad oltranza fino a quando non vi sarà un'inversione di rotta. Intanto il Piemonte chiede di dare il via alle terze dosi per il personale scolastico. Dalla terza settimana di novembre anche il personale scolastico piemontesi inizierà a maturare i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Il presidente della regione Cirio e l'assessore alla sanità Icardi scrivono al generale Figliuolo è un'altra delle categorie da mettere in sicurezza per garantire la scuola in presenza. Dicono circa il 95% del personale docente e non docente in Piemonte ha aderito alla campagna vaccinale. Siamo agli ultimi aggiornamenti sul Covid in Piemonte. 193 nuovi positivi pari allo 0,4% dei 44.550 tamponi eseguiti. 136 nuovi guariti salgono i ricoveri, più uno in terapia intensiva, più 15 nei reparti Covid ordinari. Un decesso di persona positiva è stato comunicato dall'unità di crisi. Non si tratta di un cittadino residente nei territori di VCO e Novarese. Voltiamo pagina. Buono postale fruttifero rubato. Poste italiane deve farne un duplicato anche in assenza di matrice. Lo ha stabilito il giudice di pace di Verbagna. La titolare del buono aveva chiesto aiuto a Feder Consumatori. Poste italiane deve duplicare il buono postale fruttifero rubato a una signora omegnese. Lo stabilisce una sentenza del giudice di pace di Verbagna, Silvia Terracciano. La proprietaria del buono classe 1931 nel 1987 aveva sottoscritto due buoni trentennali. Nel 2014 però in casa sua erano entrati ladri che si erano portati via anche i buoni. La signora ne aveva chiesto la duplicazione ma dalla sede centrale di poste italiane a Roma era stata emessa solo la copia di uno dei due. Dell'altro di 500.000 euro con un valore di riscossione nel 2017 di 2.800 euro non c'era più la matrice. E così la signora non avrebbe potuto incassarlo. La donna ha quindi chiesto aiuto alla Feder Consumatori di Verbagna ed è iniziata la causa legale. Poste italiane si è difesa sostenendo che dal momento che non si trovava la cedola di emissione del buono in archivio si presumeva che l'incasso fosse invece già avvenuto dal momento che le cedole vengono distrutte al momento della riscossione. Il giudice di pace ha accolto la richiesta dei legali di Feder Consumatori secondo cui come già confermato dai diversi collegi dell'arbitro bancario finanziario poste l'unico possessore di tutte le cedole pertanto lo smarrimento è imputabile agli uffici e non certo i sottoscrittori. Quindi ciò non può in nessun caso costituire prova dell'incasso da parte dei risparmiatori. La prova dell'incasso può essere fornita solo esibendo la firma apposta dal beneficiario sui registri al momento della liquidazione. La sentenza ha quindi condannato poste alla duplicazione del buono e al risarcimento di tutte le spese legali. Purtroppo la signora è deceduta poco prima della sentenza e il buono è stato riscosso dai suoi cinque figli. La sentenza ha una fondamentale importanza spiega il responsabile di Feder Consumatori, Verbagna Orazio Filocamo in quanto la materia della duplicazione dei buoni è sempre stata trattata dagli arbitri bancari finanziari. Rari sono i casi in cui ad esprimersi sono i giudici di merito. Un'anziana omenese aspettava da tempo un farmaco salvavita che non arrivava. Si è rivolta alla polizia e il pacco era fermo per questioni burocratiche. Aspettava da tempo la consegna di un farmaco salvavita ma il pacco non arrivava mai. E così una signora omenese, classe 1936, ha deciso di rivolgersi alla polizia. La scorsa settimana una pattuglia del commissariato di Omenia è così andata a casa dell'anziana che ha spiegato di aver ordinato un medicinale indispensabile per i suoi problemi cardiaci, ma non l'aveva ancora ricevuto. I poliziotti si sono così attivati, contattando la farmacia svizzera dalla quale il farmaco era stato spedito. Il medico responsabile ha spiegato di averlo inviato il 30 settembre scorso. Tramite il call center del corriere incaricato della spedizione, gli agenti hanno scoperto che il pacco era fermo per questioni burocratiche. I poliziotti hanno evidenziato che si trattava di un farmaco salvavita e così in un giorno la consegna è finalmente avvenuta. A Verbagna ha riaperto il vecchio ponte del Plush, ma dovranno essere ancora eseguiti alcuni interventi. È stato riaperto al passaggio di pedoni e biciclette il vecchio ponte del Plush sul San Bernardino, che collega Pallanza-Intra. Il ponte di Ferro negli ultimi mesi era stato oggetto di verifiche tecniche strutturali e quindi era stato chiuso. Ora può essere nuovamente attraversato. È in corso l'asfaltatura del camminamento centrale, ma l'intervento dovrà essere completato manualmente, quindi i tempi potrebbero allungarsi. Intanto però l'amministrazione comunale verbanese ha commissionato la realizzazione di pannelli che raccontino a tutti, anche ai turisti, la storia di quel ponte, che sarà anche abbellito con delle fioriere. Il ponte fu inaugurato nel 1905, era sorto su un vecchio ponte in muratura che era crollato. È stato realizzato totalmente in metallo dagli anni Ottanta e è stato chiuso per sicurezza al traffico veicolare. Dare un nuovo futuro a tutti i cimeli legati alla nuova faro di Omenia. L'obiettivo è la creazione di un museo che si inserirebbe perfettamente nel cammino intrapreso dal capoluogo Cusiano. Ma occorrono i fondi stamattina sopra luogo del sindaco Marchioni nei capannoni che contengono quei giochi che hanno scritto un pezzo di storia della città. Salvare un patrimonio storico, culturale della città di Omenia è l'appello che arriva da diversi cittadini. C'è anche una petizione su internet, un appello che è pronto, pronta l'amministrazione a raccogliere? Sì, il sopralluogo di stamattina serve anche a fare un po' il punto del materiale, quindi del patrimonio di questa prestigiosa fabbrica omenese che non deve essere assolutamente disperso. Io, il direttore del forum, il consigliere comunale Ruschetti, siamo qua per fare una valutazione del patrimonio di giocattoli e per vedere come poter trasferire questa esposizione futura in un magazzino per poi costruire un vero e proprio museo. Il lavoro che parte oggi deve poi andare a cercare i fondi per poter realizzare una ristrutturazione di un edificio, diciamo che ad Omenia ce ne sono vari, si tratterà di individuare quello più idoneo e poi portarvi questa collezione. Sandro, qui c'è la storia della tua famiglia, c'è la storia anche di Omenia. Sì, è una storia che veramente io ho sempre conservato, diciamo proprio con orgoglio, perché mio papà ha iniziato questa attività con tanti sacrifici nel 1945, appena dopo la guerra. E quindi praticamente aver potuto raccogliere sia i macchinari, la fonderia Faro che è là in fondo, sia tutti gli stampi che realizzava, le forme per colare l'alluminio, che erano i casalinghi che poi si sono trasformati in giocato. E poi con l'evento, diciamo, di tutte le riproduzioni, degli articoli reali, dei manomestici, delle mamme che venivano realizzate in quegli anni, che io ho ridotto tutti in giocattolo, dalla Vileda alla Centogradia, alla Gaggia, e tutte queste cose, praticamente sono qui raccolti. Laura, insomma, hai sentito le parole del sindaco, magari oggi c'è anche un po' più di speranza, no? Me lo auguro, perché ci siamo illusi per tanti anni, non è un discorso nuovo, e voi lo sapete, è dal 2018 che se ne parla, che si esce sui giornali e tutto. Noi quello che potevamo fare era spostare dagli immobili che riguardano il fallimento, in quest'area che fortunatamente ancora è di papà, tutto questo patrimonio, vi rendete conto il lavoro che c'è dietro. Restiamo a Omenia, dove lo scorso sabato tutto era pronto per la camminata rosa della Lilt, ma la pioggia ci ha messo lo zampino. Manifestazione rinviata al prossimo sabato, ma è stata comunque l'occasione per parlare dell'attività di prevenzione dell'Associazione. Tutto era pronto, però purtroppo il maltempo, la pioggia un po' troppo forte, ha indotto gli organizzatori, la Lega Italiana lotta a tumori, a rinviare di una settimana la camminata in rosa. Anche se però devo dire che tante donne si sono presentate ugualmente con la loro maglietta, le mascherine rosa e naturalmente anche, purtroppo, l'ombrello. Ma visto che si attendeva tanta gente, anche tanti bambini, si è preferito rinviare di una settimana pesce. Sì, il lavoro svolto dalle nostre preziosissime volontarie e volontari non andrà perduto. Sabato prossimo ci troveremo, faremo questa marcia in rosa, perché è un momento di rinascita per tutti, anche per le iniziative della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che non ha mai smesso di operare, però che voleva un momento nella marcia in rosa per stare tutti insieme e chiudere il mese di ottobre in astro rosa dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Sì, nonostante le difficoltà nel reperire risorse, la nostra sezione provinciale ha continuato a svolgere, grazie anche ai medici del reparto di oncologia e al dirigente Mario Franchini in particolare, tutte le visite di prevenzione. Abbiamo fatto le prevenzioni legate all'ottobre in astro rosa sia l'anno scorso che quest'anno, con moltissime visite, così come le visite di prevenzione per i tumori della pelle, che noi continuiamo a svolgere anche grazie alla collaborazione con il COC e l'ASL e con il dottor Carducci in particolare, che è responsabile del settore appunto legato alla prevenzione dei tumori della pelle. Ed ora andiamo ad Arona, dove due famiglie hanno donato due nuove ambulanze ai volontari della Croce Rossa. Volevamo ringraziare il presidente della Croce Rossa per l'organizzazione della giornata odierna. Oggi siamo tutti estremamente emozionati perché era il grande desiderio della famiglia Gattoni poter acquistare e donare un'ambulanza alla Croce Rossa di Arona, anche perché Arona è una città per loro estremamente vicina, nel senso che il dottor Gattoni ha vissuto per tanti anni e ha esercitato la sua professione di medico dentista. Avevano questo sogno e oggi finalmente sono riusciti a realizzarlo e questa è la cosa più importante. Signora, grazie ancora. Grazie a lei. L'altra donazione arriva da Castelletto Ticino. Sì, esatto. Arriva da una grande persona, lo ha dimostrato oggi proprio, che è Romano Minella e qui abbiamo la moglie Silvana, che sono stati sempre sensibili a queste cose. Lui già parecchio tempo prima aveva lasciato la volontà di andare incontro a chi fa questo genere di attività, cioè il volontariato. Quindi non è solo il fatto che, come si diceva prima, nell'inaugurazione e il suo ultimo viaggio è stato vicino ai volontari con un'ambulanza. Sono contenta che abbia fatto questo perché qualcuno avrà bisogno e spero che sia utile per la comunità. Presidente, due ambulanze, due donazioni, un gesto molto importante? Assolutamente. Per noi fondamentale e importante proprio perché un po' è la dimostrazione probabilmente di quello che viene svolto in generale soprattutto in questo periodo a tutti i volontari. e sono contento proprio per quello perché tutti i volontari si sono veramente sempre dati da fare e in particolare negli ultimi periodi con il Covid. Due gesti importantissimi perché sono del nostro territorio, aiutano non tanto noi ma aiutano noi ad aiutare. Noi cerchiamo sempre di aiutare e questo ci permette di aiutare veramente tutta la gente del nostro territorio con due mezzi tecnologicamente molto avanzati, dotati di sofisticate apparecchiature, di sistemi di caricamento nuovi e quindi insomma di far sì che la gente possa avere meno disagio possibile e persone che hanno già evidentemente problemi nel momento in cui andiamo a prenderli. Ed ora parliamo di enogastronomia d'eccellenza, partecipata serata al Piccolo Lago di Mergozzo per un evento che ha visto l'incontro tra un vino nuovo per il pubblico, il Moscato Secco e le specialità dello Chef. Un evento di Ice Verbagna. Una serata d'eccezione al Piccolo Lago di Mergozzo, otto set per altrettante etichette di Moscato Secco, ciascuna abbinata a una specialità dello Chef bistellato Marco Sacco. E' andato in scena Escamotage, il Moscato Bianco di Canelli, incontra la cucina d'autore, un evento partecipato, promosso da Ice Verbagna. Vini e piatti sono stati introdotti da produttori e chef, quindi la degustazione dell'abbinamento, un viaggio tra sapori di grande equilibrio, in parte nuovi e talora sorprendenti. Questa sera percorriamo nuove strade del vino con nuovi produttori, che non sono nuovi produttori, ma sono produttori storici di un prodotto famosissimo che è il Moscato Bianco di Canelli, fino a ieri vinificato solo dolce e da ormai qualche anno vinificato secco. Ma voi che un po' l'avete assaggiato, cos'ha di speciale questo Moscato Secco? E' questo contrasto tra un naso che ricorda il Moscato, perché c'è la parte varietale, ma una bocca secca. E' particolare, assolutamente particolare, ma da quello che abbiamo potuto capire, da quello che abbiamo assaggiato, sicuramente un futuro. Di recente costituzione l'Associazione Aroma di un Territorio per la promozione di questo vino. In realtà è un prodotto che esiste già da, diciamo, da sempre, però con la nostra associazione dal 2019 inizia ad avere una sua identità, quindi un disciplinare che ne regola la produzione sia in vigna che in cantina. E' un vino estremamente versatile, quindi può accompagnare dagli antipasti al pesce, al sushi, quindi pesce crudo, può tranquillamente accompagnare i primi piatti, anche secondi piatti non troppo importanti, diciamo. Chef, come ha interpretato questa serata con questo vino così nuovo, portato da questi ragazzi così giovani, perché li abbiamo visti, sono tutti sotto i 40 anni? Vabbè, è fantastico. Già il pensiero che questi giovani si mettono con un moscato, lo stravolgono, tolgono gli zuccheri, lo fanno diventare secco, è affascinantissimo. Quindi queste cose, per me, è il mio pane quotidiano, mi piace proprio. E allora abbiamo abbinato questi otto vini, questi otto piatti, che probabilmente hanno fatto un po' la storia, soprattutto di quest'anno. La cosa divertente è che diventa questo modo di esprimere, quindi di accogliere il pubblico in un contesto completamente diverso, nuovo, perché i cuochi sono là che ti raccontano i loro piatti e questi ragazzi giovani che fanno questo vino ti raccontano il loro vino. E quindi poi diventa questa interazione tra il pubblico e noi che lavoriamo e quindi diventa molto culturale. Ed ora le riflessioni del martedì con Don Renato Sacco. Sì, bentrovati a tutti e a tutti. Questo breve pensiero nel telegiornale di oggi, che è il 2 novembre, il giorno del ricordo di tutti i nostri defunti. Stavo pensando a che cosa condividere con voi quando mi è arrivato il testo della breve omelia di Papa Francesco proprio oggi, 2 novembre 2021, al cimitero militare francese a Roma. E Francesco inizia così, mi viene in mente uno scritto alla porta di un piccolo cimitero al nord. Tu che passi, pensa ai tuoi passi, e dei tuoi passi pensa all'ultimo passo. Tu che passi. E questo era il primo spunto di Papa Francesco. Il secondo, dice lui, è quello delle tombe. E dice, su molte tombe c'è scritto, il cimitero francese, inconnu, mort pour la France, sconosciuto, morto per la Francia, ignoto. Pensiamo anche a tutta la retorica di questi giorni, se guardiamo il 4 novembre, alla retorica del milite ignoto, perché noi non conosciamo i nomi, sono talmente tanti, ma il Signore li conosce. E noi li abbiamo voluti riassumere, dimenticare, mentre abbiamo dedicato monumenti e strade ai responsabili della guerra, a chi ha mandato morire 650 mila italiani. Solo gli italiani, il resto sono milioni, nella prima guerra mondiale. Quella che il Papa di allora, benedetto XV, definì inutile strage. E allora sentiamo cosa dice Papa Francesco oggi. Ma noi che stiamo in cammino, lottiamo sufficientemente perché non ci siano le guerre, perché non ci siano le economie dei paesi fortificati dall'industria delle armi, oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe. Morto per la Francia, alcuni hanno il nome, poche altre no, ma queste tombe sono un messaggio di pace. fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi, fermatevi fabbricatori di armi, fermatevi. Ecco, credo che siano le parole migliori anche per ricordare i nostri morti e per ricordare tutti i morti di tutte le guerre, in particolare quelli che ricordiamo in questi giorni, mentre si parla di nuove spese militari, di killer robot, di armi autonome autonome che possono uccidere anche se nessuno le comanda, ecco, noi diciamo, ricordando i morti, fermatevi, fabbricatore di armi. Ci rivediamo venerdì con non de solo pane. Il basket nella pagina sportiva con la Paffoni che ha dominato a Cecina. Un altro acuto, un'altra prestazione convincente. La Paffoni impone la sua legge anche a Cecina, dove vince 80-61 e fin dalla palla 2 non c'è stata storia. Per la verità ci hanno impiegato 4 minuti le due squadre a trovare la misura dei canestri, ma dopo che lo hanno fatto è stato un monologo dei ragazzi allenati da Corce e Fioretti. Più 10 al primo riposo, più 12 all'intervallo lungo, un vantaggio vicino ai 20 punti nell'ultimo quarto. Mai una titubanza, mai uno smarrimento. Tutti i giocatori coinvolti offensivamente con il duo Santucci-Neri, protagonista di una super partita, la migliore in canotta Fugor. Secondo successo consecutivo, il quarto in 5 giornate di campionato. Agguantata Alba, due punti avanti, ci sono le imbattute, Legnano, Vigevano e San Mignato. Insomma, dopo la tempesta di due settimane fa, torna il sole in casa, Fugor. Siamo in crescita, era una partita difficile perché Cecina, specialmente sul parquet di casa, il commento del direttore sportivo della Fugor, Michele Burlotto, è un osso duro e sono convinto che più di qualche big ci lascerà le penne. Venivamo da una settimana ancora una volta complicata con diversi giocatori acciaccati e fermi ai box, ma la risposta della squadra è stata splendida. Tutti hanno dato il loro contributo. Complimenti ai ragazzi e dallo staff tecnico. Quello che mi sta piacendo di più è la volontà di crescere individualmente e collettivamente da parte di ognuno dei nostri giocatori. E alla Palla Spicchi è dedicata anche la nostra serata con la nuova puntata di Baschettando che vi aspetta stasera a 20.35 e ancora domani mercoledì alle 13 alle 17.30. Dunque, una puntata speciale di Baschettando perché per la prima volta di stagione qui a Omenia abbiamo il coach della Paffoni, Fabio Fioretti. Sei contento, coach? Assolutamente. Dal primo giorno in cui sono arrivato è che ho scoperto il vostro lago. Eh, questa dichiarazione d'amore ti consentirà forse di firmare in bianco per i prossimi 10 anni dopo questa dichiarazione d'amore del lago perché il lago è sacro. Sei rilassato, contento. Un primo mini bilancio è possibile farlo? Beh, positivo, bilancio positivo perché in emergenza di corsa siamo riusciti a fare ottimi risultati tranne San Mignato ma che è stata importante per la nostra crescita. Quanto è stato importante come diceva il coach Duilio Birindelli quella sconfitta per modificare alcuni aspetti che andavano modificati anche all'interno del gruppo alcune dinamiche tecniche e non solo. È tantissimo dalle sconfitte si impara e soprattutto una sconfitta maturata così bruscamente perché è stata una bella batosta che abbiamo preso ci ha fatto cambiare l'atteggiamento e mentalmente ci ha fatto fare il salto di qualità che avevamo bisogno. Adesso siete tutti coinvolti? Sì, adesso sì siamo molto più predisposti alla causa. Predisposti alla causa insomma puntata importante con Duilio e con il coach non perdetevi la. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale viceoazzuratv.it le nostre pagine social per gli aggiornamenti grazie per essere state in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi.